Spiderman, Spiderman Incredibili perché ci siamo affiancati un attimo a quella che è la famiglia dei supereroi utilizzandoli come portatori principali della nostra giornata di attività con l'associazione di bambini, la GBD di Arona che sono bambini affetti dalla sindrome di Down è nata con l'idea di farli fare una giornata diversa, volta al gioco e all'avvicinamento a quelle che sono le attività della Croce Rossa di fuori dell'emergenza Durante l'arco della giornata a rotazione si avvicineranno tutti noi e si concluderà con un bagno di gruppo in lago anche con la popolazione proprio per dar modo anche alla popolazione di capire quelle che sono le attività di Croce Rossa Tutto ciò è stato grazie sicuramente ai sindaci di Arona, di Dormelletto e di Meina che ci hanno dato la possibilità e soprattutto siamo anche in sicurezza grazie alla Guardia Costiera che ha deciso di collaborare e di darci una mano Siamo presenti oggi anche noi a questa manifestazione invitati gentilmente dalla Croce Rossa Prima di tutto per garantire la necessaria sicurezza alle attività che si svolgono in acqua ma proprio perché quest'estate è stata caratterizzata da un'ampia collaborazione tra noi appunto e gli operatori dell'OPSA della Croce Rossa Poi in particolare siamo anche noi molto sensibili a queste manifestazioni e abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi al nostro personale ai nostri mezzi, alle nostre attività infatti li abbiamo anche ospitati a bordo delle nostre unità per conoscere appunto le principali attività che effettuiamo sul lago grazie a tutti